Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve, code in uscita alla Strassigna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. La viabilità cittadina a Firenze per un incidente restringimento di carreggiata e rallentamenti in piazza Puccini. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!